Via Toledo, la principale strada del commercio cittadino a Napoli, da decenni si è trasformata in un supermarket del falso con decine e decine di ambulanti che hanno occupato quasi ogni metro di marcia a piedi. Invasione di banchetti, carrettini e i classici lenzuoli bianchi stesi a terra con vari generi di prodotti contraffatti. Su tutte le borse griffate, gli occhiali da sole, ma sono in vendita anche i cd contraffatti, prodotti elettronici, cinture in pelle e le classiche, si fa per dire pezze offerte da ambulanti. Un problema cronico è che le amministrazioni comunali del capoluogo di regione che si sono susseguite almeno nell'ultimo ventennio non sono riuscite a risolvere in maniera definitiva. A Via Toledo, in vista delle vacanze pasquali del 24, ci andiamo a concentrare soprattutto sugli abusivi del commercio intorno ai quali spesso si formano blocchi pedonali e sui concerti improvvisati dagli artisti di strada. Lo stiamo già facendo e lo faremo ancora di più con l'ausilio anche di agenti motociclisti. Sono le parole dell'assessore alla sicurezza della Polizia Municipale Antonio De Jesu che ha annunciato poche ore fa anche un piano definito sostenibile che mira a ridurre l'invasione di abusivi lungo tutto il tratto di Via Toledo. Sostenibile sì, perché ancora una volta vanno fatti i conti con quello che possiamo mettere in campo, dichiara De Jesu. Nonostante le assunzioni di decine di unità della Polizia Municipale, Palazzo San Giacomo anche durante i giorni della Pasqua oltre a Via Toledo dovrà comunque impiegare i caschi bianchi nelle zone del centro storico e allo stesso tempo nella zona Garibaldi dove resta di altissimo efficiente il problema della sicurezza pubblica.